Nel nostro paese torna a crescere l'occupazione dopo quattro mesi di flessioni consecutive. L'Istat conta 85 mila occupati in più, in particolare tra le donne e i dipendenti, stabili gli uomini occupati mentre diminuiscono gli indipendenti. Il tasso di occupazione sale al 57,8% mentre cala quello di natività, ma da febbraio il livello dell'occupazione è sceso di quasi 500 mila unità e le persone in cerca di lavoro sono cresciute di circa 50 mila a fronte di un aumento degli inattivi di quasi 400 mila con un'emorragia da inizio anno soprattutto di dipendenti a termine e indipendenti mentre sono cresciuti i lavoratori a tempo indeterminato. Il tasso di disoccupazione a luglio sale ed è il peggiore da settembre 2019 e tra i giovani torna sopra il 30%. Alla contrazione rispetto allo stesso mese dell'anno scorso contribuiscono le ripetute flessioni congiunturali registrate da marzo. Un continuo in recupero dopo la crisi legata alla pandemia a guidare la ripartenza d'Italia. Dopo il lockdown la ripresa di queste attività nel nostro paese continua per il quarto mese consecutivo e avanza a ritmo più veloce da oltre due anni con l'indicatore che considera produzione nuovi ordini salito a 53,1 punti sopra la soglia dei 50 che separa espansione e contrazione.